capitolo xviii i dodici anni successivi a quel periodo così terribile continuò la signora dean furono i più felici della mia vita le mie più grandi preoccupazioni nel loro trascorrere mi vennero dalle malattie infantili della nostra signorinetta dalle quali come tutti i bambini ricchi e poveri non venne risparmiata a parte questo dopo i primi sei mesi katy crebbe robusta come un larice e sapeva già camminare e anche parlare a suo modo prima che l'erica fiorisse per la seconda volta sui resti mortali della signora linton era la creatura più seducente che avesse mai fatto splendere il sole in una casa desolata una bambina dal viso bellissimo con gli splendidi occhi scuri degli hernshaw ma la pelle chiara i lineamenti minuti e i ricciuti capelli biondi dei linton una bambina dall'indole vivace e decisa sebbene non violenta influenzata da un cuore sensibile esuberante all'eccesso nei suoi affetti la capacità di affezionarsi così intensamente mi ricordava sua madre eppure non le somigliava sapeva infatti essere mite e tenera come una colomba e aveva inoltre una voce suave e un'espressione riflessiva le sue collere non sfocevano mai nella furia il suo amore non era mai possessivo ma profondo e pieno di dolcezza non si può tuttavia negare che avesse difetti che peraltro mettevano soltanto in risalto le sue doti uno di essi era la tendenza a mostrarsi impertinente e un altro la perversa cociutaggine che senza eccezione i bambini viziati finiscono con l'acquisire siano essi di buon carattere o capricciosi quando qualcuno della servitù si azzardava in dispettirla se ne usciva sempre con la minaccia lo dirò a papà e se lui la rimproverava sia pure soltanto con uno sguardo si sarebbe detto che la cosa fosse di una gravità tale da spezzarle il cuore non credo che suo padre le abbia mai rivolto una sola parola dura il padrone si assunse per intero il compito di educarla e ne fece il suo divertimento per fortuna la curiosità e un intelletto pronto aiutavano la piccola no ad essere un'ottima allieva imparava in fretta e avidamente e faceva onore agli insegnamenti di lui fino all'età di 13 anni non si era mai avventurata se non in compagnia di qualcuno più lontano del parco il signor linton era solito condurla con sé a fare passeggiate per non più di un paio di chilometri in rare occasioni ma non la fidava in questi casi a nessun altro Gimmerton per lei era un nome che non significava nulla e il solo edificio al quale si fosse avvicinata o in cui fosse entrata a parte casa sua era la cappella cime tempestose il signor Heathcliff per quanto la concerneva non esistevano la si poteva considerare una vera e propria reclusa e in apparenza sembrava del tutto soddisfatta talvolta in verità contemplando il paesaggio dalla finestra della sua camera diceva Ellen quanto tempo dovrà ancora passare prima che possa salire sulla cima di quelle colline mi domando cosa ci sia dall'altra parte c'è il mare no signorina Katie ero solita rispondere ci sono delle altre colline proprio identiche a queste e che aspetto hanno quelle rocce dorate quando vieni a trovarti sotto di esse era soprattutto il precipite di rupo di pennystone craigs ad attirare la sua attenzione specie quando il sole al tramonto splendeva su di esso e sulle cime più alte mentre l'intera distesa del paesaggio più in basso rimaneva nell'ombra le spiegavo che si trattava di nudi ammassi di roccia con la terra appena sufficiente entro i crepacci per consentire la crescita di qualche albero stento e perché continuano ad essere luminose ancora per molto tempo dopo che qua giù ha già fatto buio insisteva lei perché si trovano molto più in alto di noi rispondevo tanto in alto che non riusciresti a scalarle sono troppo ripide durante l'inverno il ghiaccio arriva sempre lassù prima che da noi e in piena estate ho trovato neve in quella buia conca sul versante a nord est oh ma allora tu ci sei arrivata fin lassù esclamava lei allegramente potrò arrivarci anch'io quando sarò una donna papà c'è stato ellen papà le direbbe signorina mi affrettavo a rispondere che non vale la pena di esplorare quelle cime le brughiere dove lei va a passeggiare con suo padre sono molto più belle e il parco di trascross è il luogo più meraviglioso del mondo ma il parco lo conosco già mentre non conosco quei monti mormorava lei tra se e se e sarebbe una gioia per me guardarmi attorno dalla sommità di quella cima più alta il mio piccolo pony minni mi ci porterà un giorno o l'altro una delle cameriere parlandole della caverna delle fate la rese davvero impaziente di realizzare questo progetto che ti ossessionò il padre a questo proposito e lui le promise che sarebbe potuta salire fin lassù quando fosse stata più grande ma la signorina katie misurava la propria età in base al trascorrere dei mesi e una domanda costante sulle sue labbra era sono grande abbastanza adesso per andare a peniston craigs la strada che conduceva lassù passava nei pressi di cime tempestose edgar non se la sentiva di percorrerla e pertanto la bambina otteneva sempre la stessa risposta non ancora tesoro non ancora ho già detto che la signora hitcliffe visse per un'altra dozzina di anni dopo aver lasciato il marito tutti i componenti della sua famiglia erano di costituzione delicata sia lei sia edgar non possedevano il sano colorito che in genere si nota nella gente di queste parti non so bene quale fu la malattia che la condusse alla morte suppongo che fratello e sorella siano morti entrambi dello stesso morbo una sorta di febbre un'infezione lenta all'inizio ma inguaribile che in ultimo minava rapidamente l'organismo isabella scrisse per informare il fratello della probabile conclusione di una indisposizione della quale soffriva ormai da quattro mesi e per esortarlo a recarsi da lei se possibile in quanto aveva molte cose da sistemare e inoltre voleva dirgli addio e mettere linton al sicuro nelle sue mani sperava che il bambino potesse rimanere con edgar così come era rimasto affidato alle cure di lei il padre isabella preferiva credere non ci teneva affatto ad assumersi il fardello del suo mantenimento e della sua educazione il mio padrone non esitò neppure un momento nella secondare questa richiesta sebbene in circostanze normali fosse sempre riluttante ad allontanarsi da casa in quell'occasione volò dalla sorella affidò catherine alla mia particolare vigilanza per tutto il tempo in cui sarebbe rimasto assente ordinandomi con grande insistenza di non lasciarla uscire dal parco nemmeno se avessi provveduto io ad accompagnarla non prese in considerazione il fatto che katie potesse uscire da sola rimase via per tre settimane per un giorno o due la mia pupilla se ne stesse seduta in un angolo della biblioteca troppo immalinconita per riuscire a leggere o a giocare e poiché era tanto tranquilla mi procurò ben poche preoccupazioni ma subito dopo seguì un periodo in cui poiché si annoiava divenne impaziente e agitata e siccome ero troppo indaffarata e troppo avanti ormai negli anni per poter correre su e giù per il suo divertimento escogitai un sistema grazie al quale avrebbe potuto distrarsi solevo mandarla ad aggirarsi nel giardino ora a piedi ora sul poni e poi le davo la soddisfazione di restare ad ascoltare paziente tutte le sue avventure reali e immaginarie quando rientrava eravamo al colmo di una luminosa estate e queste passeggiate solitarie le piacevano al punto che spesso restava fuori di casa dall'ora della colazione fino all'ora del tè e poi trascorreva le serate narrandomi i suoi racconti fantasiosi non temevo che uscisse dai confini stabiliti perché i cancelli in genere restavano chiusi e inoltre ritenevo che se li avesse trovati aperti difficilmente si sarebbe avventurata lontano da sola per mia sfortuna questa fiducia risultò essere mal riposta catherine venne da me un mattino alle 8 per dirmi che quel giorno sarebbe stato un mercante arabo e avrebbe attraversato il deserto con la sua carovana dovevo perciò fornirle abbondanti provviste sufficienti per lei e per i suoi animali un cavallo e tre cammelli rappresentati da un grosso segugio e da due ponter misi insieme una buona quantità di prelibatezze e le appesi entro un cestino a un lato della sella lei balzò sul poni allegra come una fata protetta dal sole di luglio da un cappello a largatesa e da un velo poi partì al trotto con una gioiosa risata burlandosi del mio prudente consiglio di non andare al galoppo e di tornare presto la piccola disobbediente non si fece viva all'ora del tè uno dei viaggiatori il segugio un cane vecchio e amante delle comodità tornò a casa ma necchieti né il poni e neppure i due pointer erano in vista da nessuna direzione e io mandai i servi lungo questo e quell'altro sentiero e in ultimo mi misi io stessa alla sua ricerca al limite del parco un bracciante stava lavorando alla recinzione di un campo coltivato gli domandai se avesse visto la nostra signorinetta l'ho vista in mattinata rispose lui ha voluto che le tagliassi un ramo di nocciolo da adoperare come frustino e poi ha lanciato il suo cavallino al galoppo verso quella siepe laggiù dove è più bassa ed è sparita puoi immaginare come mi senti dopo questa notizia pensai subito che katie doveva essersi diretta verso pennystone craigs che cosa le sarà successo gridai insinuandomi nel varco che l'uomo stava riparando diretta verso la strada maestra camminai in fretta come se ci fosse di mezzo una scommessa un chilometro dopo l'altro finché a una curva giunsi in vista di cime tempestose ma di catering non si vedeva neanche l'ombra né da vicino né da lontano pennystone craigs si trovava a circa due chilometri e mezzo oltre la dimora del signor hitcliffe e quasi a sette chilometri dalla grange per cui cominciai a temere di non potervi giungere prima che scendesse la notte e se fosse scivolata arrampicandosi su quei dirupi riflettei uccidendosi o riportando qualche frattura la mia trepidazione era davvero vivissima e sulle prime trassi un sospiro di sollievo scorgendo mentre passavo in fretta davanti alla fattoria charlie il più aggressivo dei due pointer disteso sotto una finestra con la testa gonfia e un orecchio sanguinante spalanca il cancelletto e corsi fino alla porta bussando con vehemenza per essere fatta entrare veni ad aprire una donna che conoscevo e che in precedenza abitava gimmerton era venuta a servizio in quella casa dopo la morte del signor henshu ah esclamò è venuta a cercare la sua padroncina non si spaventi si trova qui al sicuro ma sono ben contenta che non si tratti del padrone non è in casa allora anzi mai ormai senza fiato a causa della rapida camminata e dello spavento no no rispose la donna sia lui sia joseph sono fuori e non torneranno prima di un'ora e più venga dentro si riposi un po' entrai e vidi la mia pecorella smarrita seduta accanto al focolare intenta addondolarsi sulla seggiolina che era appartenuta a sua madre nella fanciullezza aveva appeso il cappello alla parete e sembrava del tutto a suo agio in quanto stava ridendo e cicalando nel modo più gaio che si possa immaginare con areton ormai un ragazzone diciottenne grosso e robusto intento a fissarla con notevole curiosità e stupore il giovane capiva ben poco del rapido susseguirsi di commenti e di domande che si riversava senza posa dalle labbra della fanciulla benissimo signorina esclamai celando la gioia e il sollievo con un'espressione piena di collera questa sarà l'ultima passeggiata a cavallo prima del ritorno di suo padre non mi fiderò mai più di lasciar varcare la soglia di casa una ragazza tanto cattiva e disobbediente oh ellen grido lei tutta allegra balzando in piedi e correndomi incontro avrò una storia bellissima da raccontarti questa sera e così sei riuscita a scovarmi eri mai stata qui in vita tua prima d'ora si metta quel cappello e andiamo a casa immediatamente feci io sono molto in collera con lei signorina katie si è comportata malissimo non serve a niente fare il broncio e mettersi a piangere non mi ripagherà del disturbo che mi sono presa correndo a destra e a sinistra per cercarla e pensare che il signor linton mi aveva incaricata di non lasciarla uscire e lei se ne va di nascosto in questo modo ciò dimostra che una piccola volpe scaltra e nessuno potrà mai più avere fiducia in lei che cosa ho fatto singhiozzo katherine subito domata papà non mi ha mai imposto niente e non mi rimprovererà ellen non si arrabbia mai come te avanti andiamo ripeti ci penso io ad annodarle il nastro e non sia petulante o che vergogna ha già 13 anni ed è ancora così bambina questa esclamazione era stata causata dal fatto che lei si era tolta il cappello indietreggiando verso il focolare fuori dalla mia portata su via disse la domestica non sia severa con questa brava figliola signora dean siamo stati noi a farla fermare qui lei avrebbe voluto proseguire per non farla stare in ansia ma areton si è offerto di accompagnarla e secondo me faceva bene e brutta la strada sulle colline areton nel corso della discussione era rimasto in piedi con le mani in tasca troppo imbarazzato per aprire bocca sebbene sembrasse non gradire la mia intromissione quanto tempo dovrò ancora aspettare continuai senza tener conto dell'intervento della donna tra dieci minuti farà buio dov'è il pony signorina katie e dov'è phoenix la lascerò qui se non si sbriga quindi faccia un po come crede il pony è nel cortile disse lei e phoenix è chiusa qui in casa è stata morsicata e così charlie stavo per dirti tutto ma tu sei di pessimo umore e non meriti di sapere presi il cappello e mi avvicinai per rimetterglielo ma essendosi accorta che gli altri due prendevano le sue parti cominciò a correre qua e là per la stanza e quando mi misi a inseguirla mi sfuggì come un topolino sopra e sotto e dietro i mobili rendendo ridicolo il mio inseguimento areton e la donna risero katie si unì alla loro ilarità e divenne ancora più impertinente finché io al colmo dell'irritazione gridai bene signorina katie se sapesse di chi è questa casa sarebbe ben contenta di uscirne e di tuo padre no fece lei rivolta ad areton no rispose il ragazzo abbassando lo sguardo e arrossendo di vergogna non sopportava di essere fissato dagli occhi di lei sebbene fossero identici ai suoi e di chi allora del tuo padrone domandò katie il rossore di areton si intensificò causato da un sentimento diverso il giovane borbottò un'imprecazione e volto alle spalle chi è il suo padrone continuò l'insistente ragazzina rivolgendosi a me ha seguitato a parlare della nostra casa e dei nostri contadini credevo che fosse il figlio del proprietario non mi ha dato del lei né mia chiamata signorina non avrebbe forse dovuto farlo se è un servo areton si fece scuro come una nuvola carica di tempesta a quelle parole infantili io scrollai in silenzio chi mi poneva quelle domande e riusci infine a prepararla perché ce ne potessimo andare adesso vammi a prendere il cavallo fece lei rivolgendosi al parente con lo stesso tono di cui si sarebbe servita con gli staglieri della grange e potrei venire con me voglio vedere da dove spunta fuori nella palude il cacciatore di spiriti folletti e sapere tutto sulle fatine come le chiami tu ma sbrigati che cosa ti prende ho detto di portarmi il cavallo preferisco vederti dannata all'inferno prima di fare il servitore a te ringhiò il ragazzo preferiresti vedermi dove domandò catherine sorpresa all'inferno strega insolente ribatte lui ecco signorina katie come vede è capitata in una bella compagnia intervenni io bel modo di apostrofare una signorina per favore non si metta a litigare con lui venga andiamo a cercare minni per nostro conto e torniamocene a casa ma ellen gridò lei fissandolo paralizzata dallo sbigottimento come osa parlarmi in questo modo non dovremmo costringerlo a fare quanto gli ho chiesto perfido individuo riferirò quello che hai detto a mio padre e poi vedrai la minaccia parve lasciare areton del tutto indifferente e ciò fece spuntare lacrime di indignazione negli occhi di catherine vada lei a prendere il pony ingiunse rivolta alla donna e liberi subito il mio cane ci vada piano signorina rispose l'altra sarà tanto di guadagnato per tutti se si mostrerà cortese anche se il signor areton qui non è il figlio del padrone è sempre suo cugino e nessuno lo ha assunto per servire lei lui sarebbe mio cugino esclamocchieti con una risata sprezzante certo proprio così rispose colei che l'aveva rimproverata oh ellen non consentire che mi dicano queste cose mi imploro che ti mostro turbata papà è andato a prendere mio cugino a londra mio cugino è figlio di un gentiluomo costui mio si interruppe e cominciò a piangere a dirotto sconvolta soltanto all'idea di poter essere imparentata con un bifolco simile si calmi si calmi bisbigliai la gente può avere molti cugini di ogni genere signorina katy senza doversi sentire sminuita per questo ma non è costretta a frequentarli se sono odiosi e perfidi ma lui non lo è capisci non è mio cugino ellen insistete lei ancora più adolorata da quella riflessione e mi si gettò tra le braccia quasi per trovare scampo da una simile possibilità ero molto irritata con lei e con la donna per via di quello che entrambe avevano rivelato infatti senza alcun dubbio l'imminente arrivo di linton al quale catering aveva accennato sarebbe stato riferito al signor hitcliffe ed ero altrettanto certa che katy per prima cosa non appena fosse arrivato suo padre avrebbe chiesto spiegazioni su quanto l'intrigante domestica le aveva rivelato cioè la sua parentela con quello zotico areton una volta superato il disappunto per essere stato scambiato per un servo parve commosso dalla disperazione di catering e dopo aver portato il pony fino alla porta di casa per ringraziarsela andò a prendere nel canile un grazioso cucciolo di terrier dalle gambe storte e glielo mise nelle mani mentre la invitava a non prendersela tanto perché non era stata sua intenzione offenderla smettendo per un momento le sue lamentele lei gli rivolse uno sguardo di sgomento e di orrore poi scoppiò di nuovo in lacrime riuscì a malapena a trattenermi dal sorridere di fronte a tanta repulsione nei confronti del poveretto era un giovane ben fatto e atletico robusto e sano con bei lineamenti ma indossava abiti adatti alle occupazioni quotidiane di chi lavori in una fattoria o si aggiri nella brughiera andando a caccia di conigli e di altra selvaggina e per di più mi sembrava di veder trasparire attraverso i tratti del suo viso un indole migliore di quella mai posseduta da suo padre buone qualità che senza dubbio si perdevano in mezzo a un intrico di erbacce la cui invadenza ne aveva sopraffatto lo sviluppo e della cui esistenza nessuno si era curato ciò nonostante stavano ad attestare un terreno fertile che in circostanze diverse e favorevoli sarebbe riuscito a produrre messi abbondanti il signor hitcliffe secondo me non doveva averlo maltrattato fisicamente e ciò grazie alla natura impavida di lui che non induceva affatto a cedere alla tentazione di ricorrere a oppressioni di questo tipo nel ragazzo era del tutto assente la timida suscettibilità che avrebbe potuto soleticare in hitcliffe il gusto per i maltrattamenti sembrava pertanto che la sua mavagità si fosse accontentata di farne un brutto non gli era mai stato insegnato a leggere o a scrivere né mai il ragazzo era stato rimproverato per qualsiasi pessima abitudine che non infastidisse il suo tutore mai gli era stato fatto muovere un solo passo verso la virtù o era stato messo in guardia contro il vizio mediante un singolo precetto morale inoltre a quanto avevo sentito dire joseph contribuiva in notevole misura alla sua corruzione con una ottusa parzialità dalla quale era stato spinto ad adularlo e a coccolarlo nella fanciullezza essendo areton l'unico erede dell'antica famiglia e come un tempo soleva accusare cateri nern show e hitcliffe bambini di far disperare il padrone al punto da costringerlo a cercare un sollievo nell'alcol con quelle che lui definiva le loro ribalderie così ora faceva pesare il fardello di tutti i difetti di areton sulle spalle di chi aveva usurpato i suoi beni se il giovane bestemmiava non si sognava di rimproverarlo né lo rimproverava per quanto male potesse comportarsi sembrava anzi essere soddisfacente per joseph vederlo incamminarsi su una cattiva strada ammetteva che areton era ormai corrotto che la sua anima era destinata alla perdizione comunque si diceva di tutto questo doveva rispondere hitcliffe e il sangue di areton avrebbe sporcato le sue mani da questo pensiero traeva una consolazione immensa joseph aveva instillato nel giovane l'orgoglio del proprio nome e del proprio lignaggio se soltanto avesse avuto la forza di osare avrebbe alimentato l'odio tra lui e l'attuale proprietario di cime tempestose ma la paura che quell'uomo gli ispirava si spingeva fino alla superstizione e joseph limitava le manifestazioni esteriori dei propri sentimenti di odio nei confronti di hitcliffe ad allusioni appena mormorate e a silenziose minacce non pretendo di conoscere a fondo i modi di vita abituali adottati da chi viveva a cime tempestose a quei tempi parlo solo per sentito dire di persona potevo vedere ben poco gli abitanti del villaggio sostenevano che il signor hitcliffe era un taccagno e un padrone duro e crudele con i suoi braccianti l'interno della casa comunque era tornato al decoro di un tempo grazie alla presenza di una donna a occuparsi dell'andamento domestico e le scene di violenza così frequenti ai tempi di indley non vi avevano più luogo il padrone era troppo immerso nella tetraggine per cercare la compagnia di chiunque buono o cattivo che fosse e continua a comportarsi in tal modo tuttora queste considerazioni però non contribuiscono a far procedere il racconto la signorina katy respinse l'offerta di pace del terrier e pretese i suoi cani phoenix e charlie si avvicinarono zoppicanti e a testa bassa e ci avviamo a casa entrambe di pessimo umore non riuscì a farmi dire dalla padroncina come avesse trascorso la giornata a parte il fatto che come supponevo la sua meta era stata peniston craigs ed era arrivata senza alcuna disavventura al cancello della fattoria proprio nel momento in cui ne usciva areton seguito da alcuni cani che avevano aggredito i suoi si erano battuti con ferocia prima che i rispettivi proprietari riuscissero a separarli in questo modo i due avevano fatto conoscenza katerin aveva detto ad areton chi era e dove stava andando gli aveva chiesto di mostrarle la strada e in ultimo con non poche moine era riuscita a convincerlo ad accompagnarla la giovane le aveva rivelato i misteri della grotta delle fate e di venti altri luoghi strani ma io essendo in disgrazia non ebbi mai il privilegio di sentirmi descrivere tutte le cose interessanti che katie aveva veduto riuscì ad arguire comunque che la sua guida aveva goduto delle sue simpatie finché lei stessa non ne aveva suscitato il risentimento scambiandola per un servo e finché la governante del signor hitcliffe non l'aveva offesa dicendole che areton era suo cugino inoltre il linguaggio di cui il ragazzo si era servito nel rivolgersi a lei le bruciava nel cuore si era sempre sentita chiamare tesoro e cara e reginetta e angelo da tutti alla grange e sentirsi insultare in quel modo da un estraneo era stato sconvolgente una cosa che andava al di là della sua comprensione e soltanto molto astento riuscì a strapparle la promessa che non sarebbe andata a lamentarsene con suo padre le spiegai quanto grande fosse la versione di lui nei confronti di tutti coloro che dimoravano a cime tempestose e lei dissi quanto si sarebbe dispiaciuto nel venire a sapere che era stata là ma insistetti soprattutto sul fatto che se gli avesse riferito in qual modo i suoi ordini erano stati trasgrediti forse si sarebbe infuriato con me al punto da costringermi ad andarmene e che ti non sopportava una simile prospettiva mi diede la sua parola e la mantenne per amor mio in fin dei conti era una cara bambina capitolo 19 una lettera listata di nero rese noto il giorno in cui il padrone sarebbe tornato isabella era morta e lui scriveva lo scopo di darmi disposizioni relative al lutto per sua figlia e perché preparassi una stanza e tutto il necessario prima dell'arrivo del nipote catherine divenne pazza di gioia all'idea di poter riabbracciare il padre e si abbandonò alle aspettative più ottimistiche per quanto riguardava le innumerevoli e del ciel seduti del vero cugino giunse la sera del loro previsto arrivo sin dalle prime ore di quel mattino che ti si era data un grande affare nel mettere ordine tra le sue piccole cose e ora con il vestito nero nuovo povera piccola la morte della zia non l'aveva addolorata oltre misura mi costrinse tormentandomi senza posa ad accompagnarla fino al cancello per andare loro incontro linton ha appena sei mesi meno di me cicalò mentre ci lasciavamo indietro le collinette e le concherbose sotto l'ombra degli alberi sarà delizioso averlo come compagno di giochi zia isabella aveva mandato a papà una bellissima ciocca dei suoi capelli sono più chiari dei miei quasi color lino e altrettanto sottili li ho conservati con cura in una scatoletta di vetro e ho pensato spesso a quanto sarebbe stato bello conoscere la zia oh sono proprio felice e papà il mio caro carissimo papà sta per arrivare vieni ellen corriamo avanti risbrigati si allontano di corsa e tornò indietro e di nuovo corse via molte e molte volte prima che i miei passi misurati mi facessero giungere al cancello poi sedette sull'argi nervoso lungo la strada e cercò di aspettare con pazienza ma non le fu possibile non riusciva a star ferma per un minuto di seguito quanto tempo ci mettono esclamò ah vedo un po di polvere sulla strada stanno arrivando no ma quando saranno finalmente qui non potremmo andare un po più avanti un mezzo chilometro ellen soltanto un mezzo chilometro ddc fino a quel gruppo di betulle alla curva rifiutai decisamente e infine la sua ansiosa attesa ebbe termine la carrozza comparve in fondo alla strada la signorina che ti strillò e tese le braccia non appena vide il viso del padre guardare fuori dal finestrino lui discese impaziente quasi quanto lei e ci volle un pezzo prima che si ricordassero degli altri e non pensassero soltanto a loro stessi mentre si scambiavano affettuosità sbirciai dentro la carrozza desiderosa di occuparmi di linton dormiva in un angolo avvolto in un caldo mantello foderato di pelliccia come se fossimo stati in inverno un ragazzo pallido delicato effemminato che si sarebbe potuto scambiare per il fratello minore del mio padrone tanto era sficcicata la somiglianza tra i due ma lui aveva un'aria di morbosa suscettibilità quale edgar non aveva mai avuto quest'ultimo si accorse che stava osservando suo nipote e dopo aver scambiato con me una stretta di mano mi invitò a chiudere lo sportello e a non disturbarlo in quanto il viaggio lo aveva affaticato che timoriva dalla voglia di dargli un'occhiata ma suo padre la invitò ad accompagnarlo e insieme risalirono il viale mentre io mi affrettavo a precederli per impartire gli ordini alla servitù e adesso tesoro disse il signor linton rivolto alla figlia mentre sostavano in fondo ai gradini sul davanti della casa tieni presente che tuo cugino non è robusto e allegro come te ha appena perduto la madre perciò non aspettarti che sia disposto subito a correre e a giocare e non lo infastidire parlando troppo lascialo tranquillo almeno per questa sera d'accordo sì certo papà rispose catering però vorrei vederlo non si è ancora affacciato neanche una volta al finestrino la carrozza si fermò infine il ragazzo venne destato e poi aiutato a scendere dallo zio questa è tua cugina katie linton disse edgar facendo sì che le loro piccole mani si unissero ti vuole già molto bene e bada di non rattristarla piangendo questa sera su sforzati di essere allegro il viaggio è terminato e ora non devi far altro se non riposarti e divertirti quanto vorrai permettimi di andare a letto allora rispose il ragazzo togliendo la mano da quella di catering per portarsela agli occhi e asciugare le lacrime sul punto di sgorgare avanti andiamo si comporti come un bravo bambino bisbiglia io conducendolo in casa finirà per far piangere anche lei guardi com'è dispiaciuta a causa sua non so se davvero condividesse la sua pena ma anche katie aveva assunto un'espressione malinconica e tornò a dedicarsi a suo padre entrarono tutti e salirono nella biblioteca dove il tè era già pronto sbarazzai il piccolo linton del cappello e del mantello e lo feci accomodare a tavola su una sedia ma il ragazzo si era appena seduto che ricominciò a piangere il padrone gli domandò cosa avesse non posso stare su una sedia singhiozzò lui mettiti sul divano allora ellen ti porterà l'ailte rispose lo zio con pazienza doveva essere stato messo a dura prova durante il viaggio me ne resi conto da quel ragazzino scontroso e malaticcio linton si trascinò ad verso il divano e vi si distese katie portò uno sgabello e la tazza del tè accanto a lui sulle prime rimase in silenzio ma non poteva durare aveva deciso di adottare il cugino come una creatura bisognosa da affetto un cucciolo da coccolare o almeno voleva che lui fosse questo e dopo poco cominciò ad accarezzargli i riccioli a baciarlo sulla gota e a offrirgli il tè su un piattino come si potrebbe fare con un bambino piccolo questo gli fece piacere perché non era molto più di un bambino si asciugò gli occhi e un fallido sorriso gli illuminò il volto o si troverà bene qui mi disse il padrone dopo essere stato a guardarli per un momento meglio così se riusciremo a tenerlo ellen la compagnia di una bambina della sua stessa età potrebbe riuscire a consolarlo in fretta e volendo essere vivace quanto lei si rimetterà presto in forze se riusciremo a tenerlo pensai tra me e un doloroso cattivo presentimento mi assalì facendomi paventare che ciò fosse assai improbabile e in tal caso mi dissi come potrebbe mai vivere una creatura così delicata a cime tempestuose tra suo padre e areton quali compagni di giochi e quali maestri sarebbero stati quei due i nostri timori si rivelarono ben presto giustificati e ancor prima di quanto mi fosse aspettata avevo appena portato di sopra i bambini subito dopo che avevano terminato di prendere il tè e mi ero fermata finché linton non aveva preso sonno non mi sarebbe stato possibile andarmene prima lasciandolo solo in effetti non me lo avrebbe consentito e mi trovavo accanto al tavolo nell'ingresso intenta ad accendere una candela per il signor linton che si accingeva ad andare a coricarsi quando una cameriera uscì dalla cucina per dirmi che il servitore del signor hitcliffe joseph si trovava alla porta e voleva parlare con il padrone gli domanderò prima che cosa vuole dissi in preda una grande trepidazione è un'ora davvero impossibile questa per venire a disturbare la gente subito dopo che per giunta è tornata da un lungo viaggio non credo che il padrone possa riceverlo joseph aveva attraversato la cucina mentre io pronunciavo queste parole ed era entrato nell'ingresso indossava il vestito della festa e aveva la sua espressione più bigotta e maligna con il cappello in una mano e il bastone nell'altra si stava pulendo le scarpe sullo suo ino buonasera joseph dissi io gelida per quale motivo sei qui a quest'ora voglio parlare col padrone linton rispose lui invitandomi con un gesto sdegnoso a scostarmi il signor linton sa per andare a coricarsi a meno che tu non abbia qualcosa di molto importante da dirgli sono sicura che non ti riceverà dissi faresti meglio a metterti a sedere qui e a riferire a me quello che gli devi comunicare qual è la sua stanza insistette il vecchio scrutando la fila di porte chiuse mi resi conto che non avrebbe accettato la mia mediazione e quindi anche se con molta riluttanza salì di sopra nella biblioteca per annunciare l'importuno visitatore facendo osservare che si sarebbe dovuto congedarlo dicendogli di tornare l'indomani il signor linton non ebbe il tempo di autorizzarmi a procedere in questo senso poiché joseph aveva salito le scale alle mie calcagna e ora entrato nella stanza si era piazzato all'altro lato del tavolo con entrambi i pugni sul pomo del bastone e stava dicendo in tono iroso quasi prevedesse un rifiuto hitcliff mi ha mandato a prendere suo figlio e non devo tornare indietro senza di lui edgar linton tacque per un lungo minuto un'espressione di estrema sofferenza gli alterò il volto la compassione per il bambino sarebbe già stata una reazione spontanea in lui ma ricordando le speranze e i timori di isabella gli ansiosi desideri da lei espressi per quanto concerneva suo figlio e il fatto che avesse incaricato proprio lui di proteggerlo si affliggeva adesso amaramente di fronte alla prospettiva di dover consegnare il piccolo linton e stava cercando in cuor suo un modo per evitare la cosa ma non gli si presentò alla mente nessuna soluzione il solo manifestare il desiderio di trattenerlo avrebbe reso ancora più parentorio colui che lo reclamava non restava altro da fare se non consegnare il ragazzo tuttavia non aveva nessuna intenzione di interromper nel sonno di al signor hitcliff rispose calmo che suo figlio verrà a cime tempestose domani adesso si trova a letto ed è troppo stanco per affrontare un nuovo spostamento gli puoi dire inoltre che la madre di linton desiderava affidarlo alla mia tutela e che la salute del ragazzo è molto precaria no urlò joseph battendo con un tonfo il bastone sul pavimento e assumendo un'aria prepotente e no tutte queste chiacchiere non vogliono dire proprio un bel niente hitcliff se ne infischia della madre del moccioso e anche di lei vuole suo figlio e io glielo devo portare adesso si sarà reso conto di come stanno le cose non glielo porterai questa sera rispose linton in tono deciso puoi ridiscendere le scale e riferire al tuo padrone quello che ti ho detto ellen accompagnalo fuori e afferrato per un braccio l'indignato vecchio sbarazzò la stanza della sua presenza e chiuse la porta benissimo urlò allora joseph poi avviandosi ad agio per andarsene soggiunse domattina verrà lo stesso hitcliff e si provi a scacciare lui vedremo se oserà capitolo 20 per evitare il pericolo che la minaccia venisse attuata il signor linton mi ordinò di portare di buon'ora il ragazzo a cime tempestose sul poni di caterin e soggiunse dal momento che non potremo influenzarne in alcun modo il destino buono o cattivo che sia non dovrei dire a mia figlia dove è andato il ragazzo d'ora in avanti non lo potrà più frequentare è preferibile perciò lasciarle ignorare che si trova nei paraggi per evitarle di diventare irrequieta e ansiosa di recarsi a cime tempestose ti limiterai a dirle che suo padre lo ha mandato a prendere all'improvviso e che lui è stato costretto a lasciarci il piccolo linton si mostrò molto riluttante a farsi buttare giù dal letto alle 5 del mattino e rimase allibito quando seppe che doveva prepararsi a un altro spostamento ma io addolcì la pillola dicendogli che sarebbe andato a trascorrere un po di tempo con suo padre il signor hitcliffe il quale ci teneva moltissimo a rivederlo tanto da non saper rimandare tale gioia dandogli il tempo di riprendersi dalla fatica del viaggio mio padre esclamò lui stranamente perplesso la mamma non mi ha mai detto che avevo un padre dove abita preferirei restare con lo zio abita poco lontano dalla grange risposi subito al di là di quelle colline non così lontano da non consentirle di arrivare a piedi fin qui quando si sentirà di farlo e dovrebbe essere lieto di tornare a casa sua e di rivederlo deve cercare di amarlo come lo amava sua madre e verrà ricambiato con altrettanto affetto ma perché non ho mai sentito parlare di lui prima d'ora perché la mamma e lui non vivevano insieme come fanno tutti gli altri i suoi affari lo trattenevano al nord gli spiegai mentre la salute di sua madre richiedeva che lei soggiornasse al sud e perché la mamma non mi ha mai parlato di lui insistete il ragazzo parlava spesso dello zio e ho imparato ad amarlo da un pezzo come faccio ad amare mio padre non lo conosco oh ma tutti i bambini amano i loro genitori asserì sua madre forse temeva che lei sarebbe voluto andare a vivere con il suo papà se le avesse parlato troppo di lui ma sbrighiamoci una passeggiata mattutina con una splendida giornata come questa è di gran lunga preferibile a un'ora di sonno in più verrà anche lei con noi domandò linton la bambina che ho conosciuto ieri sera non adesso risposi e lo zio no sarò io ad accompagnarla dissi il ragazzo ricade sul e parve assorto in cupe riflessioni non ci andrò senza lo zio gridò infine non posso sapere dove ha intenzione di portarmi lei cercai di convincerlo che era davvero una bruttissima cosa mostrarsi riluttante a conoscere suo padre lui continua con ostinazione a rifiutare di vestirsi e io dovete ricorrere all'aiuto del padrone per convincerlo a scendere dal letto il povero bambino venne infine indotto a incamminarsi con molte ingannevoli assicurazioni sul fatto che la sua assenza sarebbe stata breve e che il signor edgar e katy gli avrebbero fatto visita e altre promesse ancora altrettanto ingannevoli da me scogitate e ripetute di tanto in tanto durante il tragitto l'aria pura profumata di erica il vivido sole e il trotterellare tranquillo di minni dopo un po' cominciarono ad attenuare lo sconforto del ragazzino cominciò a pormi domande circa la sua nuova casa su chi vi abitava con maggiore interesse e vivacità anche cime tempestose un bel posto come trascross grange si informò voltandosi a rivolgere un ultimo sguardo alla vallata dalla quale stava salendo una nebbiolina leggera per andare a formare una nuvola lanuginosa contro il limitare dell'azzurro non la circonda un così gran numero di alberi risposi e non è altrettanto vasta ma vi si gode un panorama meraviglioso del paesaggio tutto attorno e l'aria lassù sarà più salubre per lei più fresca e più asciutta la casa vera e propria le sembrerà vecchia e scura tutta prima sebbene si tratti di una bella dimora la migliore del vicinato dopo quella di suo zio inoltre lei potrà fare passeggiate piacevolissime nei dintorni con Areton Ernshaw l'altro cugino della signorina Katie e pertanto anche il suo in un certo qual modo le mostrerà tutti i luoghi più suggestivi quando il tempo sarà bello potrà portare con sé un libro e trasformare una valletta verdeggiante nel suo studio e di tanto in tanto suo zio potrà tenerle compagnia in qualche passeggiata si reca spesso a compiere camminate sulle colline e mio padre com'è domandò linton è giovane e bello come lo zio è altrettanto giovane risposi ma ha i capelli e gli occhi neri ha un aspetto più severo ed è più alto e robusto nell'insieme non le sembrerà altrettanto affabile e gentile sulle prime forse perché il suo modo di fare è diverso ciò nonostante cerchi di essere franco e cordiale con lui e naturalmente suo padre le vorrà più bene di quanto gliene potrebbe volere qualunque zio dato che lei è suo figlio i capelli e gli occhi neri riflettè a voce alta linton non riesco a immaginarmelo allora io non ti somiglio vero non molto risposi proprio per niente pensai osservando con rammarico la carnagione chiara e il corpo gracile del ragazzino gli occhi grandi e languidi di lui gli stessi occhi della madre a parte il fatto che se non si accendevano per una momentanea e morbosa permalosità non lasciavano trasparire nemmeno l'ombra della scintillante vivacità di lei è molto strano che non sia mai venuto a trovare la mamma e me mormorò linton mi ha mai veduto se mi ha visto dovevo essere un bambinetto non ricordo assolutamente nulla di lui beh padroncino linton osservai io 480 chilometri sono una distanza molto grande e dieci anni a una persona adulta sembrano molto più brevi di quanto possano sembrare a lei è probabile che il signor si sia sempre proposto di venire da un'estate all'altra ma non si è mai riuscito a trovare l'opportunità per farlo ormai quello che è stato è stato non lo infastidisca con domande al riguardo riuscirebbe soltanto a metterlo a disagio senza nessuno scopo il ragazzo rimase del tutto assorto nelle sue riflessioni per il resto del tragitto finché non ci fermammo davanti al cancello dal quale si entrava nel giardino della fattoria gli rivolsi un'occhiata per farmi un'idea dall'espressione del viso di quali fossero le sue impressioni stava osservando la facciata scolpita e le finestre piccole dai vetri piombati dedicò una intensa e solenne attenzione agli stenti cespugli di uva spina agli abeti contorti poi scosse il capo dentro di sé disapprovava totalmente l'aspetto esteriore della sua nuova dimora ma ebbe il buon senso di lasciare in sospeso le lamentele l'interno della casa avrebbe potuto compensare l'esterno prima che smontasse andai ad aprire la porta erano le sei e mezzo la famiglia aveva appena terminato di fare colazione la domestica sparecchiava e puliva la tavola joseph era in piedi accanto alla sedia del padrone e gli stava dicendo qualcosa a proposito di un cavallo azzoppato e areton si accingeva ad andare a falciare il fieno salve nelly gridò il signor hitcliffe quando mi vide temevo di dover venire io stesso a prendermi quanto è mio lo hai portato tu vero vediamo cosa si potrà ricavarne si alzò e venne a gran passi verso la porta areton e joseph lo seguirono incuriositi a bocca aperta lo sguardo del povero linton passò atterrito sulle facce di quei tre di sicuro disse joseph dopo aver esaminato il bambino con aria grave qualcuno lo ha scambiato con questa femminuccia padrone e questa è sua figlia hitcliffe dopo aver fissato il bambino fino a metterlo in uno stato di tormentosa confusione scoppiò in una risata sprezzante dio che meraviglia che creatura adorabile e incantevole esclamò lo hanno per caso allevato nutrendolo a lumache e latte acido nelly ah che sia dannato e ancora peggio di quanto mi aspettassi e il demonio sa che non ero ottimista invitai il bambino tremante e smarrito a smontare dal poni e a entrare non aveva ben capito il significato delle parole pronunciate da suo padre e non sapeva nemmeno se fossero rivolte a lui addirittura non sapeva ancora con certezza se quello sconosciuto torvo e sprezzante fosse suo padre ma si avvinghiò a me con crescente trepidazione e quando il signor hitcliffe si rimise a sedere e gli ordinò di avvicinarsi il piccolo linton nascose il volto contro la mia spalla e pianse su su fece hitcliffe tendendo una mano e trascinandolo in modo rude tra le sue ginocchia per poi mettergli due dita sotto il mento e costringerlo ad alzare la testa basta con queste sciocchezze non ti faremo alcun male linton non è questo il tuo nome sei in tutto e per tutto il figlio di tua madre che parte ho avuto io in te pulcino frignoso tolse il berretto al ragazzo gli spinse indietro i folti riccioli color lino poi gli tastò le braccia esili e le dita delicate mentre veniva così esaminato linton smise di piangere e alzò i grandi occhi azzurri per osservare chi lo stava osservando sai chi sono domandò hitcliffe dopo essersi accertato che tutte le membra di lui erano ugualmente gracili e deboli no fece linton rivolgendogli uno sguardo colmo soltanto di paura avrai sentito parlare di me spero no rispose ancora lui no è vergognoso da parte di tua madre non aver mai destato in te l'affetto filiale verso di me allora te lo dirò io che sei mio figlio e tua madre è stata una perfida sgualdrina lasciandoti nella totale ignoranza del padre in gamba che avevi e adesso non trasalire non arrossire anche se è già qualcosa a constatare che non hai acqua al posto del sangue comportati come un bravo ragazzo e ti troverai bene con me nelli se sei stanca puoi anche metterti a sedere altrimenti tornatene a casa suppongo che vorrai andare a riferire tutto quello che stai udendo e vedendo al damerino della grange e questo pulcino non riuscirà ad ambientarsi un po' finché ci sarai tu a stargli tra i piedi bene replica io spero che lei si mostrerà buono con il bambino signor itcliffe altrimenti non lo avrà a lungo e non lo dimentichi è l'unico essere del suo stesso sangue che lei conosca in tutto il vasto mondo sarò molto buono con lui non temere dichiarò itcliffe ridendo ma nessun altro dovrà esserlo sono geloso e intendo monopolizzare il suo affetto anzi tanto per cominciare a mostrarmi buono joseph porta qualcosa di colazione al ragazzo e tu areton dannato fanullone va al lavoro sì nelli soggiunse itcliffe quando se ne furono andati mio figlio sarà il futuro erede di trascross grange e non voglio certo che lui muoia prima di avere la certezza che la dimora passerà a me inoltre lui mi appartiene e voglio avere la soddisfazione di vedere il mio discendente padrone di diritto delle proprietà dei linton mio figlio assumerà i loro figli affinché lavorino stipendiati la terra dei padri ecco la sola considerazione che potrà indurmi a sopportare il marmocchio lo disprezzo per quello che è e lo odio per i ricordi che suscita nella mia mente comunque tale considerazione è bastevole sarà al sicuro con me e sarà trattato con la stessa cura con la quale il tuo padrone tratta sua figlia ho fatto arredare apposta per lui una stanza con i mobili migliori al piano di sopra ho assunto anche un precettore che verrà tre volte alla settimana da oltre 30 chilometri di distanza per insegnarli quello che gli piacerà imparare ho ordinato ad areton di ubbidirgli insomma ho sistemato ogni cosa in previsione della necessità di fare di lui un gentiluomo in grado di essere ubbidito dai suoi sottoposti mi spiace però che meriti così poco tutto questo disturbo se desideravo un unico bene a questo mondo era di trovare in lui un ragazzo degno del mio orgoglio e sono amaramente deluso da questo moccioso dalla faccia di pancotto che sa soltanto frignare mentre parlava joseph rientrò recando una scodella di crema d'avena e latte e la mise davanti a linton il ragazzino rimescolò quell'intruglio alla buona con un'espressione disgustata e dichiarò che non gli andava di mangiarla mi resi conto che il vecchio servitore condivideva in larga misura il disprezzo del suo padrone per il bambino ma era costretto a non darlo a vedere dal momento che itcliffe pretendeva per lui il rispetto dei suoi dipendenti non ti va di mangiarla ripete joseph scrutando in viso linton e abbassando la voce fino a un bisbiglio per paura di essere udito ma padronareton non ha mai mangiato altro quando era piccolo e quello che andava bene per lui può andare bene anche per te te lo dico io no non lo voglio mangiare ribatte linton stizzito la porti via joseph indignato afferrò la scodella con un movimento brusco e venne verso di noi c'è qualcosa che non va in questa roba domandò mettendo la scodella sotto il naso di itcliffe che cosa dovrebbe esserci domandò lui che cosa gli fece eco joseph quel damerino dice di non volerla mangiare ma in fin dei conti non ha mica torto anche sua madre era così eravamo tutti troppo sudici o pressa poco per seminare il gran turco dal quale prepararle il pane evita di nominarmi sua madre disse il padrone rabbioso portagli qualcos'altro che gli vada a genio senza tante storie che cosa mangia di solito nelli gli consigliai del latte bollito o un tè e la governante ricevette l'ordine di prepararglielo tutto sommato riflettei l'egoismo del padre potrebbe assicurare gli agi al bambino itcliffe si rende conto della costituzione delicata del figlio e della necessità di trattarlo in maniera sopportabile consolerò il signor edgar mettendolo al corrente di questo nuovo atteggiamento poiché non avevo più alcun pretesto per trattenermi ancora sgattaiolai via mentre linton era distratto in quanto stava respingendo con un certo timore le manifestazioni d'affetto di un amichevole cane da pastore ma il bambino era troppo allerta per lasciarsi ingannare mentre chiudevo la porta mi giunse un grido e una frenetica ripetizione delle parole non mi lasci non voglio restare qui non voglio restare qui poi il saliscendi venne alzato ma ricadde non avevano consentito all'inton di uscire montai in sella a minni e la spinsi al trotto e così si concluse il mio breve incarico di accompagnatrice Grazie 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 Grazie